Due scompiglie per voi, ha suonato Tonino Zulfrilo con Alberto Morecco che va a casa bruciando il boss dalla Ceocia, l'esterno della Roma, lascia Aldo Piedi! Contro di lui, a l'altro rosso a preso di 65 di 3 peccetto, il mano cimenele con un regola presista in comando dato un incontro vinto ha suonato Valentino Cazza con suono sul volto di Lorenzo e Martini Pinto D'Arcione, da San Francisco Carriola, Lugia, Baccarosso e Popola! E' la prima imprese! Alpass! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 l'angolo c'è l'auto e la seconda e la seconda round 2 e lì lì c'è l'accelerato il fegato stai tirando il fruttato bene bene con le gambe però devi portare dentro le gambe bravo ecco l'ismontante là ecco l'abbiamo fatto noi l'ha facendo le stesse cose bravo vai vai il centro della importante improntare il scivante l'osso al figanus l'agorde in l'agrada 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 Grazie a tutti. Oh, ti porta le gambe. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Sì, 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 Sì 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 Sì Sì, Sì, Sì Sì Sì, Sì 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 Sì, Sì Sì, Sì, Sì Sì, Sì Sì, Sì, Sì Sì, Sì Sì, Sì, Sì Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì Sì, Sì, Sì Sì, Sì, Sì Sì, 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 Sì Sì, 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 Sì Sì, Sì Sì, Sì, Sì Sì, Sì Sì, Sì 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 dice questo è il controllo di tutti Mauro 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 è il controllo del pubblico e la squadra è il controllo del terremoto della regia è il controllo per quella Mauro 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 Mauro